Signori, il più grande spadaccino di Francia. D'Artagnan. D'Artagnan? La mia regina. È in atto un massacro. Raduna i moschettieri. Parala! Stiamo giocando Porto. Si è ridotto come una calza bucata. A volte ti guarda negli occhi e ti fissa. Troppo vino. Ma vive sotto quelle tette. Questo te... Maestà, pardonate. Se ero apparente che la festa era così durevole, schiacciavamo un fiselino. Ma come cazzo parlo? Sono cavalli speciali. Si chiamano uno, due, tre e quattro. Ma poi uno come fa a riconoscere? Sono tutti uguali. Dal nome, no? Uno, due, tre, quattro. Ma ti hai contato da là? Prova a contare da là. Ma che sei matto? Ma arrendo. Chi siete? Atto sarà mista a Tagnani e Porto. Maschettieri! All'epoca non avevo ancora incontrato Dio. Che hai incontrato Dio, tu? Ma cosa? E dove? Ma è un modo di dire. Dai! Lo so che è un modo da dire. Se chiedi dove vuol dire che non lo sai. Se io voglio dire dove, lo dico. Dillo, va. Dove, dove, dove? Però se non possiamo neanche uccidere a sangue freddo, allora lasciamo Baracca, Buratino e dove? All right!